Si apre forse un lungo commissariamento al comune di Angri. Finisce nel peggiore dei modi, imburrasca il breve sindacato di Giampaolo Mazzola. Arriva la terza umiliante delegittimazione conosciuta da un sindaco di Angri. Dopo Possiglione e Lamura, tocca ora a Giampaolo Mazzola terminare con tre anni di anticipo il suo sindacato. Chiuse tutte le possibili alternative all'attuale governo di coalizioni sono stati in tredici a chiedere la cessazione anticipata della legislatura. Alle 14.35, dopo un passaggio notarile, l'atto di sfiducia è stato protocollato in comune, dal quale ora partirà la comunicazione in prefettura. E già in settimana potrebbe arrivare il commissario prefettizio per l'ordinaria amministrazione, in vista del nuovo turno elettorale, ancora da decidere, ma che i ben informati danno per sicuro con l'election day di giugno, grazie ad un possibile decreto ministeriale che permetterebbe a comuni come Angri e la provincia di Caserta di andare alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino ed evitare un prolungato commissariamento. Le motivazioni della sfiducia nelle parole di Antonio Squillante. La scelta è dovuta al fatto che fino ad oggi Angri si era impantanata. Colui che era stato designato alla guida della nostra città purtroppo ha dimostrato di non riuscire a portare avanti progetti che il centrodestra gli aveva affidato. E quindi dopo un'attenta riflessione, dopo una serie di problematiche legate appunto ai rapporti istituzionali, si è deciso appunto di richiedere a tutti i consiglieri che condividono questo problema di dimettersi proprio per ritornare alle urne e ridare una guida al paese che sia più in grado di risolvere i gravi problemi nei quali si trova Angri. Una causa che forse è stata scatenata, una reazione che è stata scatenata dalla decisione del sindaco di sollevare lei dall'incarico di vice sindaco? Guardi, diciamo che questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È chiaro che ci sono stati diversi episodi che hanno portato alla dimissione e quindi alla sfiducia nei confronti del sindaco. Sicuramente la revoca delle medeloghe è stata sicuramente la causa scatenante. Però in realtà chi arriva senza una ragione, senza una motivazione a fare un atto del genere a un soggetto che comunque ha una rappresentanza politica nell'ambito del Consiglio Comunale, sicuramente dà un'ulteriore dimostrazione di incapacità politica. Le firme contano quelle dell'Udc, Forza di Opposizione, più altre firme di consiglieri del centro-destra. Una scelta avallata anche dai vertici provinciali del centro-destra? Guardi, i vertici provinciali del centro-destra non mi va di tirarli in ballo in questo momento. Noi tutti siamo coscienti che adesso ci appropriamo alle elezioni provinciali. Un momento molto importante per il centro-destra, per il popolo di libertà. E a questo proposito volevo dire un ulteriore senso di irresponsabilità politica nella circostanza che è stata dimostrata dall'ex sindaco. È proprio questo, che in una situazione del genere in cui ci avviciniamo alle elezioni provinciali non bisognava fare un atto del genere nei miei confronti, ma in generale nei confronti della cittadinanza. Noi siamo stati costretti, i vertici provinciali nessuno ha minacciato nulla nei nostri confronti e quindi noi siamo certi che loro capiranno quel gesto che oggi abbiamo fatto e tutti coloro che nell'ambito del PDL operano hanno posto in essere questa azione. Pesanti anche le critiche rivolte dall'Udc verso il quale Mazzola aveva riposto nelle ultime ore i suoi propositi di salvezza. Il consigliere uscente, Giacomo Sorrentino, smentisce i contatti con il gruppo Mazzola. Non c'è mai stato nessun tipo di accordo, nessun contatto tra noi e l'ex sindaco Mazzola, semplicemente perché noi dell'Udc siamo dove la gente ci ha relegato, cioè l'opposizione. Abbiamo fatto opposizione per quest'anno e mezzo come meglio potevamo, abbiamo portato le nostre proposte quasi sempre inascoltate, abbiamo votato anche a favore nei momenti in cui ritenevamo che qualche provvedimento era a favore, ma una volta che ci siamo resi conto che non c'erano più le condizioni di andare avanti abbiamo deciso di accettare la proposta che ci veniva fatta da Squillante con i suoi quattro consiglieri e abbiamo deciso finalmente di defenestrarlo. Ma ripeto, è una decisione molto sofferta quella che abbiamo preso in queste ore.